Allora salva a tutti cari amici sono sempre io ricercatore Emiliano Babilonia mi stanno contattando tramite mail moltissime vittime del controllo mentale moltissimi target individuals tutte le parti d'Italia stanno subendo degli abusi delle torture fisiche psicologiche delle manipolazioni radiocognitive oppure attacchi con armi ad energie dirette durante la notte gli creano addirittura incubi manipolazioni cerebrali sul riscaldamento del corpo e molte volte queste persone non possono neanche lavorare e non possono neanche stare a casa perché le torture diventano devastanti sul loro corpo pensate che molte vittime 24 su 24 devono sentire delle voci in testa gli creano dei programmi cerebrali o addirittura chi si riscalda nel corpo gli creano delustioni e delle patologie per poterli far diventare nervosi oppure per poter far credere che tutte queste patologie che loro hanno sul corpo definite da molte persone patologie di persone malate di mente ma non è così noi siamo delle cavie umane a tutti gli effetti manipolate da agenzie deviate sopra istituzionali che effettuano degli esperimenti militari o sopra istituzionali proprio per sperimentare collaudare queste tecnologie disumane abbiamo un ragazzo qui un nuovo testimone che parlerà della sua situazione lascio la parola adesso al ragazzo ciao a tutti sono davide vivo a udine e ho l'onore di parlare con emiliano che ho potuto trovare nelle pagine web per poter avere almeno una via di di scienza avere una via di scienza ecco per queste torture che subisco ogni giorno mentali psicologiche psichiche e fisiche tutto iniziato sei anni fa purtroppo ho iniziato a subirmi delle telepatie artificiali prima si camuffavano con il viso dei miei familiari dei miei amici per tentare di isolarmi per cercare di manipolarmi sempre meglio mi hanno attaccato e intaccato le abilità cognitive di fatti non ho potuto studiare non ho potuto lavorare ho avuto dei lavori molto irregolari mi hanno intaccato gli stati d'animo negli ultimi mesi è stato terrificante perché comunque hanno intaccato anche i miei organi interni tante volte non riuscivo nemmeno a iniziare la minzione se loro volevano mi svegliavo ogni mattina con dolori ai reni palpitazioni respirazioni affannose nonché anche purtroppo dolore alle gambe dolore alla cervicale dolore alla spina dorsale tutto questo ho avuto anche controlli dei dei sogni davvero molto efferati ogni notte mi svegliano mi fanno più dormire appunto per indebolirmi per farmi stare male ho avuto anche alcune le piccole lesioni dovute a bruciature sul riscaldamento del corpo sul riscaldamento della fronte ho fatto anche un incidente stradale al quanto dubbio cinque anni fa purtroppo io insomma quando avevo tanti era un adolescente e quindi non avevo ancora la cognizione non avevo ancora ecco la consapevolezza di me stesso quindi hanno potuto lavorarmi ancora meglio purtroppo e mano a mano mi sono sempre più accorto che purtroppo queste voci che poc'anzi accennavo non derivavano dai miei familiari non era una telepatia naturale ma purtroppo era una telepatia artificiale indotta da questi esseri umani se possiamo chiamarli umani perché sinceramente l'umanità non non ce l'hanno l'umanità perché per fare del male così a delle persone a dei loro fratelli come loro purtroppo purtroppo bisogna solo essere gente come come i nazisti erano negli anni 40 veramente molto atteggiamento davvero criminale ero una persona che sapeva parlare benissimo era una persona che sapeva rapportarsi al meglio ho sempre lavorato molto bene sono sempre stato un ottimo studente avrei voluto faccontare l'università entrare nell'ambito politico amministrativo purtroppo questo mi è stato impedito poiché appunto evidentemente dava fastidio alla mia energia e insomma il mio modo di fare mi sveglio ogni mattina stanchissimo davvero defraudato energeticamente vedo continuamente la faccia dei miei torturatori che 24 ore su 24 mi torturano come detto con voci telecomandandomi cercandomi di dare dei comandi dicendomi delle falsità svilendomi cercando di mettermi atti depressivi cercando di perfino indurmi atti di suicidio molte volte è capitato questo oltre anche che dei fischi provenienti dal sistema nervoso centrale che veramente mi fanno impazzire dei fischi non so quanti terzi possono essere questi fischi che poi noi chiamiamo acufeni ma in fondo sono dei fischi penso provenienti dal sistema nervoso centrale mattina e notte notte mattina continuamente dopodiché ho anche avuto problemi ovviamente con i miei amici ero circondato da tantissimi amici da tantissimi conoscenti ho sempre avuto una famiglia molto numerosa purtroppo sono stato isolato dagli amici la famiglia purtroppo non mi ha potuto capire poiché pensavano magari che avessi qualche problema nel trovarmi lavoro magari pensavano e anzi pensano che sia schizofrenico piuttosto che altro invece la realtà è quella che mi stanno attaccando continuamente con armi ad energia diretta microonde onde radio adesso mi sono informato oggi possibile qua emiliano sicuramente può confermare il tutto perché anche lui penso che lo stia subendo e l'abbia subito per anni mi vengo attaccato ancora questa notte mi hanno attaccato con le armi ad energia diretta e mi dicono che non deve aiutare le vittime del controllo mentale allora io gli dico sempre se non c'è qualcuno che le aiuta queste vittime le vittime non sapranno come risolvere non sapendo come risolvere possono essere facilmente manipolate e portate al suicidio e noi vogliamo far capire alle vittime che non sono malati di mente ma che sono persone sottoporte a esperimenti radiocognitivi per far perdere ovviamente il ragionamento logico esattamente esattamente quello che sto anch'io subendo da anni anch'io questa notte purtroppo sono stato svegliato solite voci soliti sogni voci che appunto continuano a manifestarsi ogni giorno da più persone almeno così sembra uomini e donne che hanno una loro fisionomia almeno così sembra una loro proprio faccia e si presentano in tal modo e io veramente questi ultimi sei anni sono stato tramortito sono stato proprio su classato da loro perché purtroppo non ho potuto né lavorare come accennavo non ho potuto nemmeno studiare e gli anni passano io adesso ho 26 anni e 4 mesi gli anni passano 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 indelebili e il brutto è che comunque mi sono accorto mi sono accorto di questa cosa mi sono accorto che anche appunto negli anni precedenti ho subito questa cosa anche perché subisco perdita della memoria io ho sempre avuto una memoria stratosferica se la memoria a breve termine che memoria a medio e lungo termine adesso invece ho evidenti problemi di memoria perché manco anche proprio di presenza mentale perché sembra quasi che prendono il posto mio ecco in certi in certi momenti cercano così tanto di controllarmi mentalmente che sembra quasi che avvenga una sorta di possessione da parte di queste di queste persone che appunto come dice Emiliano agiscono attraverso mezzi tecnologici e io veramente non so più non so più come uscirne francamente io non sono mai andato io già avevo capito questa cosa e loro mi volevano dirottare verso csm volevano farmi credere di essere affetto da qualche disturbo della personalità o disturbo mentale schizofrenico piuttosto che disturbo schizitoide o schizotipico o disturbi o disturbi dissociativi io mai poi mai ci ho creduto e alla fine ho avuto ragione almeno grazie a dio di quello perché sennò adesso sarei ancora più zombie di quello che vorrebbero farmi essere e io spero ovviamente di riuscire insieme a tutti quanti quelli che subiscono queste angherie e questi 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 malifici ad uscire da questa situazione spero veramente di poter riprendere in mano la mia vita e spero anche questo terribile shock possa scomparire perché poi dopo ti permane anche lo shock proprio emotivo lo shock mentale proprio che permane nell'essere perché comunque siamo persone tutte quante sensibili profonde e detto sinceramente quando capitano queste cose qua io non non voglio mentire o mi sono anche una volta messo un po a piangere anche se poi fondamentalmente il pianto potrebbe anche essere indotto da loro ma veramente da quanto mi hanno calpestato da quanto hanno calpestato i miei diritti ai dolori che mi facevano provare mi hanno sempre voluto mi hanno sempre fatto provare sia fisici psichici e psicologici e mentali sono stati qualcosa di repellente qualcosa veramente di di assurdo e mi sentivo mi sono sempre sentito fuori dal mondo anche perché ovviamente poi dopo uno prova a parlarne con la gente che ha intorno la gente lo crederà pazzo questo è quello che vogliono far credere a di questi soggetti queste persone qua quindi uno veramente non sa come non sa come uscirne tanto anche per far capire quanto tempo ho perso e quanto tempo sto ancora perdendo nell'informarmi in tutto nel cercare di venire fuori da questa triste situazione per appunto incontrare altre persone che stanno subendo la stessa cosa e per fare un attimo di chiarezza ho scritto anche la commissione europea ho scritto l'unione europea ho scritto al vaticano ho scritto al nostro presidente del consiglio giuseppe conte ho scritto di battista ho scritto a varie a varie persone a vari enti purtroppo non ho ricevuto risposte soddisfacenti per il momento a parte la commissione europea che mi ha detto di rivolgermi alle autorità nazionali anche se purtroppo una persona come me e io ci ho provato ad andare a dai carabinieri all'arma dei carabinieri a denunciare questa cosa purtroppo verrà presa per pazzo nel senso non è che ti dicono che sei pazzo ma ti diranno e ti indicheranno la via del medico di base per iniziare un percorso comunque verde in quelle direzioni lì ecco vorrei chiedere anche a Emiliano come lui come ha fatto anche a sopportare tutto questo e voglio chiedergli come pensa che tutti noi possiamo uscirne possiamo uscire da questa situazione allora all'ultito dei consigli praticamente noi abbiamo un gruppo di un'associazione di roma noi collaboriamo con il centro italiano ricerche il centro della ricerche fa dei studi e delle ricerche tecniche scientifiche su determinati sistemi tecnologici e determinate frequenze che vengono sparate addosso alle vittime io do solo un consiglio quando noi praticamente facciamo le riunioni o le conferenze di venire a roma perché così possiamo stare una giornata insieme parlare di determinate argomentazioni e se abbiamo la possibilità di fare determinati tipi di analisi perché io ho acquistato un elettroencefalografo o un misuratore di campi elettromagnetici che misura le frequenze bassissime addirittura siamo in grado di misurare anche la risonanza di schumann poi io sto costruendo varie apparecchiature per analizzare determinate frequenze sia audio sia uditive che frequenze infrasoniche per poter analizzare questi suoni oppure questi acufeni che loro dicono ma sì in realtà sono acufeni simulati attraverso queste armi ci sono state altre associazioni che praticamente volevano collaborare con noi ma abbiamo poi riscontrato che più che collaborazione in realtà volevano solamente speculare sulle vittime quando poi siete in grado di gestire determinati sistemi tecnologici perché non essendo dei tecnici e allora loro hanno detto e allora come facciamo a proseguire con questo con questo aiuto io il primo aiuto che do alle vittime di portare una denuncia cautelativa sintetica tecnica e plausibile alla procura di appartenenza ufficio primi atti all'interno del tribunale perché se la denuncia viene portata in una caserma di carabinieri o alla polizia o la guardia di finanza potrebbero fraintendere gli agenti che ricevono la denuncia e ci potrebbero prendere per pazzi o malati di mente siccome io le denunce le faccio molto tecniche molto plausibili e conosco le tecnologie che vengono utilizzate attraverso questi sistemi di controllo e spionaggio satellitare non possono ovviamente dirmi no questa tecnologia non esiste quando io ho fatto delle ricerche con oltre vent'anni di esperienza ho fatto 1250 analisi sto seguendo oltre 500 vittime abbiamo fatto una marea di riunioni una marea di interviste e sto in contatto con molti ricercatori con molti scienziati con molti medici che praticamente seguono determinati casi e quindi io sto anche collaborando con il generale Antonio Pappalardo abbiamo fatto anche delle conferenze insieme stiamo preparando una nuova conferenza che la dovremmo fare verso natale prima di natale questa conferenza si intitolerà complotti di stato perché così abbiamo voluto mettere a 360 gradi praticamente tutto ciò che è il complottismo dello stato italiano anerenti ad attentati sperimentazioni cini come vengono utilizzati i soldi dello stato italiano in modo illegale perché è per sovvenzionare determinate società massoniche sia farmaceutiche e tecnologiche per ovviamente gestire un patrimonio multimiliardario che non è privato ma è dello stato e lo stato non può gestire autonomamente per cose private di persone private i soldi della nazione ma purtroppo da quello che abbiamo capito succede questo nella nazione italiana quindi io il consiglio pure che ti do quando vai in determinate associazioni stai attento perché determinate associazioni dicono di aiutarti ma in realtà non ti fanno proprio niente perché noi facciamo una marea di interviste e testimonianze le mettiamo da tutte le parti e invece altri gruppi di altre associazioni non fanno niente prendono solamente i nominativi delle persone oppure qualche denuncia di qualche persona metterlo solo sul sito che non vede nessuno quando noi siamo andati davanti al parlamento con il generale Pappalardo e con altre persone siamo interessati intervistati da Ricolucci di NEMO la trasmissione NEMO e adesso noi dovremmo ritornare in una trasmissione RAI per portare praticamente la nostra testimonianza sia attraverso esperienze di vittime ma sia attraverso ricerche tecniche e scientifiche purtroppo altre associazioni che dicono di aiutare non fanno niente quando noi gli diciamo di collaborare non collaborano e non vogliono praticamente ascoltare determinati nostri consigli e determinate nostre soluzioni infatti alcune associazioni a livello internazionale mi hanno contattato a me per la seconda volta per effettuare un evento nazionale il target individual dei perché non hanno contattato le altre associazioni loro mi hanno detto che io sono l'unica persona in italia che a livello pubblico a livello di divulgazione tramite il web tramite i social tramite anche le radio e le televisioni che sta divulgando a 360 gradi questo praticamente olocausto neurale io lo definisco le altre associazioni purtroppo sono solo dei pagliativi che dicono di aiutare ma in realtà non fanno proprio niente ti volevo chiedere un'altra cosa che è molto importante vuoi dare una parola di conforto un consiglio alle vittime che ascolteranno la tua intervista beh io posso solamente dire che gli voglio proprio un gran bene anche se non le conosco le amo profondamente perché queste cose qua sono cose veramente che vanno contro contro natura sono cose che appartengono ad inferenze ad interferenze esterne sono cose che rovinano la vita rovinano i sogni però gli voglio dire di stare forti di essere forti e perché comunque non usciremo fuori è che gli voglio proprio un gran bene questo è sicuramente quello che gli voglio dire vuoi dire qualche altra cosa della tua esperienza cioè di questo che stai passando di questo che ti stanno facendo no vabbè innanzitutto volevo fare a te grandi grandi complimenti sia per la capacità di eloquio perché comunque non è facile io devo dire che adesso mi accorgo sempre di più che mi hanno mangiato mezzo cervello non so se anche l'area di brock è l'area di werneck a dibite comunque l'elaborazione del linguaggio è la comprensione del linguaggio perché comunque noto che sono un po rallentato effettivamente del resto veramente ecco l'esperienza che ho avuto in questi ultimi tempi questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi perché ne sono diventato sempre più consapevole di questi attacchi di questi attacchi veramente violentissimi mi hanno sicuramente rovinato la vita mi stanno continuando a rovinare la vita io in questo momento non lavoro come ho detto già veramente sono in un mezzo dramma possiamo dire sono un po isolato purtroppo sono continuamente intercettato le ho sempre addosso anche adesso io continuamente addosso e vociferano di continuo continuano a minacciarmi continuano ripeto persino non riuscivo ad iniziare alla minzione cioè non so se questo rende l'idea della serie che al di là del non dormire al di là del controllo dei sogni bruttissimo perché incubi continui ed è brutto quando tu sai che non hai più l'autonomia di decidere di prendere le tue scelte nella tua vita questo è davvero davvero bruttissimo cioè stiamo parlando del nostro corpo stiamo parlando della nostra mente stiamo parlando veramente di qualcosa che appartiene solo a noi solo a noi e questo e questo non veramente mi ha sconvolto mi ha sconvolto perché poi dopo ovviamente mi sono detto ma pensa a te c'è proprio io cioè poi dopo ovviamente ho scoperto che ci sono altre tante persone in italia però sai io qua della mia famiglia dei miei amici e poi non lo so magari se loro non l'hanno capito o altro però sai anche quando ho iniziato a chiedere in giro ma la telepatia esiste o qualche a qualche magari mio amico o altro loro mi hanno detto no no assolutamente la telepatia non esiste ecco rimani un po rimani un po spiazzato perché dici ma proprio io proprio io devo subirmi tutto questo c'è solo io che cosa ho fatto di male perché mi stanno facendo questo ma evidentemente siamo degli esperimenti come tu accennavi come dicevi siamo delle cave umane e dobbiamo uscire fuori da questa situazione perché dopo un po comunque perdi tanti anni di vita a stare dietro a queste cose qua che grazie a dio ci sono persone che ci stanno dietro persone come te persone come insomma tante associazioni soprattutto come dicevi tu la tua perché questa cosa qua che mi dicevi prima non la sapevo c'è il tempo perso proprio è quello che vogliono anche quello che vogliono il tempo perso io spero che possiamo trovare una risoluzione a questi accadimenti a queste cose perché non vedo l'ora anche io di riniziare a vivere come penso tutte quante le vittime una vita normale una vita tranquilla una vita fatta da noi stessi soprattutto perché veramente è una tortura ma tortura continua proprio sì sì purtroppo è così ma ti hanno attaccato anche a livello sentimentale certamente a livello sentimentale a livello tutti tutti le sfere private della della mia vita sentimentale motivo ripeto cognitivo perché anche a livello cognitivo anche adesso mi metto a studiare continuamente le loro facce che mi si perpongono sembra quasi che si imperpongano tra il mio io e tra la mia memoria o tra il mio io e la mia concentrazione tra il mio io e la mia capacità di elaborazione tra il mio io e la mia capacità di comprensione e dopo di che anche i lavori i lavori quanto malumore poi che mi hanno fatto venire quanti c'è tantissime volte mi è capitato poi anche i vizi io vedi sono un fumatore di sigarette ma sto smettendo perché comunque noto che mi hanno mezzo massacrato i polmoni anche attraverso le sigarette perché adesso loro che pilotano i miei stati d'animo mi indirizzano solamente a fumare sigarette cioè quando io mi metto davanti a un libro o mi metto a lavorare loro fanno di tutto per parlarmi per defraudarmi l'energia e per farmi avere uno stato d'animo triste, svogliato, senza voglia di fare quando io ovviamente non ero mai stato così quindi questa cosa qua più vado avanti nella mia vita più peggiora invece di migliorare ovviamente meno male che me ne sono reso conto meno male che l'ho saputo perché se no veramente chissà che fine avrei fatto probabilmente sarei già in qualche ricovero psichiatrico è per questo che appunto come dicevi tu prima è importantissimo informare tutte le persone che subiscono queste cose qua affinché non vadano poi dopo a cacciarsi in qualche percorso fantomatico di qualche psichiatra piuttosto di qualche psicologo perché anche io sapendo questa cosa qua mi sono domandato ma pensa a te quante persone quante persone che purtroppo hanno avuto la vita rovinata coloro che soffrono apparentemente a mio modo di vedere di disturbo bipolare o di disturbo schizofrenico o di altri disturbi della personalità e disturbi mentali non sanno questa cosa qua e si sono rovinati la vita saranno io penso l'80% a questo punto a questo punto io penso e ho capito che era tutta una copertura pronto si riesce più a sentire niente potrebbe essere che hanno bloccato forse la linea riusciamo a capire aspettate pronto? 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 si pronto? è cascata la linea non ti riuscivo più a sentire è cascata la linea o l'hanno fatta cascare o l'hanno fatta cascare probabilmente anche così probabilmente può anche essere così e va bene quasi sicuramente va bene e guarda hai fatto una bellissima intervista complimenti sei stato molto tecnico molto plausibile molto sintetico infatti le persone che prendono sono persone tutte intelligenti che riescono a capire a studiare determinate tecnologie e poi riescono ad entrare in una consapevolezza che queste tecnologie che servono ovviamente per spiare la popolazione italiana per manipolare la popolazione italiana ma anche tutte le altre parti del mondo purtroppo date in mano ti faccio un esempio degli angeli custodi salverebbero milioni di persone date in mano a nazisti purtroppo uccidono milioni di persone esattamente bravissimo e questo purtroppo è una delle cose che ho sempre pensato ho detto se le davano in mano a noi noi avremmo salvato tantissime persone ma purtroppo questi li ho definiti una mafia militare che opera per l'attestazione con l'auto di questi armamenti satellitari di controllo e di spionaggio delle persone e quindi dobbiamo non dico fare una rivoluzione noi siamo la resistenza siamo coloro che stanno resistendo a queste organizzazioni criminali sopra istituzionali e stiamo divulgando quello che noi subiamo diventeremo 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 testimonianze qualcuno ci dovrà per forza ad ascoltare all'interno di un tribunale o in televisione o nelle radio perché potrebbe essere che una persona è malata di mente pazzo schizofrenica e questo va bene ma quando incominciano a dirlo tantissime persone che vengono attaccate e manipolate con queste armi dopo diventa un po' una cosa anomala che tutti questi testimoni dicono tutte le stesse antiche cose e che vengono attaccati tutti nella stessa modalità e che usano i stessi programmi di controllo e di manipolazione cerebrale però purtroppo ci sono delle lobby della massoneria industriale militare e lobby che operano attraverso la mafia militare nel territorio nazionale italiano prendendo appalti e sovvenzioni multimiliardarie per questi tipi di tecnologie che cercano praticamente di far sparire tutto di occultare tutto ed è più facile definire una persona che viene attaccata con queste armi e con queste tecnologie un malato di mente che non una vittima del controllo mentale ed è così esattamente bravo ed è così queste persone qua meriterebbero un nuovo processo di Norimberga io ogni tanto cosa vuoi le attacco anche ovviamente anche le offrendo ogni tanto perché quando poi dopo è troppo è troppo fanno di tutto mi fanno di tutto e gli dico spesso mi intereste 30-40 anni di galera se non un ergastolo per quello che state facendo perché sono crimini contro l'umanità e sì infatti è proprio così allora io ti ringrazio tantissimo per la tua intervista testimonianza pubblicheremo l'intervista su Angeli Custodi MK Oltre Italia su YouTube e poi voglio dare alcune precisioni su determinati canali che ho su YouTube il primo canale è Angeli Custodi MK Oltre Italia poi il secondo canale invece è Emiliano Babilonia e poi ho la radio web Emiliano Babilonia Spreaker e poi ho la seconda radio web che è Emiliano Babilonia Mixcloud ho un blog vittime del controllo neurale satellitare blogspot oppure ho il secondo blog satelliti spia blogspot e il terzo blog è ricercatore di fenomeni spiegabili nel mondo seguite questi blog seguite queste ricerche seguite le interviste testimonianza che sono molto importanti poi deluciderò le varie modalità della denuncia collettiva che noi stiamo preparando insieme a un gruppo di vittime in Italia per poter portare una testimonianza collettiva attraverso una denuncia che utilizzerà come associazione il centro del dano ricerche utilizzeremo l'avvocato anche dell'associazione per poter praticamente dare la nostra voce con un gruppo di testimoni con un gruppo di vittime che praticamente riusciranno a far capire ai giudici e ai magistrati quello che noi stiamo subendo per adesso grazie a tutti per l'ascolto e ringrazio anche questo ragazzo per aver dato la sua testimonianza grazie a tutti grazie a tutti